Musica Ancora un danneggiamento per la statua ottocentesca che ritrae Ferdinando III di Toscana, l'opera che si trova in piaggia del Murello ad Arezzo. Un distacco del polso con conseguente caduta a terra di una porzione di circa 10 cm per 5 di marmo. Nessun danno a passanti o d'auto, il polso della statua è stato fasciato per evitare ulteriori distacchi. Sembra che si sia staccato un pezzo di marmo del polso e la posizione attuale della lancia è tale da far presumere che ci sia stato un atto voluto o accidentale. Inizialmente si era parlato delle rigide temperature e il gelo come causa del distaccamento. Secondo lei è più presumibile invece un atto vandalico? Io ho questa idea per quanto il gelo sul marmo, specialmente su micro lesioni preesistenti, può causare delle difformità che possono in casi particolari anche portare a un danneggiamento di questo tipo, cioè al distacco di un pezzo. Allora, con un colpo di gelo si ha una micro lesione che è data dall'espansione dei cristalli di ghiaccio all'interno di piccole lesioni. Chiaramente non uno spostamento che, come possiamo vedere lì, è di oltre mezzo metro, quindi fa più pensare a un tentativo di arrampicarsi o di una bravata e poi si sono trovati, come dire, a aver fatto questo danno. La lesione è stata scoperta domenica mattina e la statua è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Arezzo intervenuti sul posto assieme alla polizia municipale e al sindaco Alessandro Ghinelli. Chiaramente questo è un primissimo intervento e è necessario procedere rapidamente, soprattutto perché la lancia in quella posizione, oltre che essere, che è possibile anche che si batta con qualche mezzo particolarmente alto, non è detto, siccome non è vincolata alla parte di sopra, potrebbe anche scivolare e staccarsi. La statua adesso sarà sistemata definitivamente dalla soprintendenza. Allora, innanzitutto bisogna montare un'impalcatura, mettere subito in sicurezza effettiva tutta quanta la struttura e dopodiché il pezzo è stato recuperato, quindi sarà senz'altro possibile ricollocarlo e qualora mancassero delle parti vengono ricostruite con uno stucco fatto da calce e una polvere di marmo dello stesso tipo di quello originale.